ragazzi buongiorno ragazzi battuta bolognese marchietto montato canna di 6 metri come sempre ragazzi come sempre fatemi mettere in pesca casomai vi spiego dopo ci abbiamo un po di mare oggi una bella onda lunga come vedete ci bagneremo un bel po ma non mi interessa magari esce qualcosa di carino dai mettiamoci in pesca ragazzi bigattino pasturazione e innesco c'ho anche un po di pelle poi vediamo per ora partiamo dai ragazzi bigattino non lo posso tenere vicino devo andare un po dietro sbigattinare non è un problema dai pescione 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Bello. Bel Sarago. Bello, veramente. Bel Sarago, ragazzi. Guardate. Bello, bello, veramente. Dai, bella partenza. Via. Sei un altro bello Sara, com'è? No, 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 no. sembrano più grossi, non lo so com'è finano di brutto stamattina, sono incazzati neri saraghetto dai saraghetto 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 saraghetto